L'effetto storia si è esaurito, i bonus, consegnati a Davide Nicola quasi. Il tecnico del crotone non può più sbagliare. La sua squadra ha messo in mostra un buon gioco ma ha raccolto zero in classifica. E nel calcio si sa, quello che contano sono i risultati. Il trener rosso-blu è chiamato ad una svolta, servono punti, servono soprattutto con le dirette concorrenti come l'Empoli, prossima avversaria dei calabresi dopo la sosta. Una sfida tra due squadre ferme al palo in fondo alla classifica con zero punti. Entrambe le formazioni si presenteranno alla gara con tutti gli uomini a disposizione. La settimana di stop ha permesso ai due tecnici di recuperare tutti gli acciaccati. Empoli-Crotone è un match inedito in Serie A. Parecchi invece gli incontri in cadetteria. Il più recente, al Castellani, è andato in scena nel 2013-2014. 3-1 per i locali con doppietta di maccarone e rete di verdi, gol della bandiera per gli ospiti firmato Cataldi. Nello stadio toscano il Crotone non ha mai vinto, tuttavia il bilancio totale dei precedenti pende in favore dei calabresi in termini di vittorie 5 contro 4. Il risultato più frequente è per lo 0-0, un prodotto che servirebbe a poco ad entrambe nel posticipo di lunedì sera. La sfida sarà diretta dalla signor Paolo Valeri della sezione di Roma. Alessio Bonpasso per la Cineus 24.